Ciao, buonasera a tutti, sono a Priscia, a Priscia, a Priscia, a Priscia. Anche la persona che ha fatto la natura di 2009 per per me, sono pagato tutti i contributi, per lavorare, quella che conosco in Priscia, ho ancora preso tutti i giorni, ma non sto guardando loro da una persona per gli altri miei amici.